La natura, la poesia e l'histoire rivalisent si de grandeur, e si l'on peut embrasser d'un coup d'œil tous les temps et tous les prodiges. Madame de Staël 27 febbraio 1787 Capisco bene tutti coloro che al vedere Napoli escono fuori di sé, e con tenerezza mi sono ricordata di mio padre, che aveva conservato fino alla morte l'incancellabile impressione di questa città. Notte insonne. Non ho dormito neanche un'ora. Ieri, venendo da Salerno, abbiamo sostato su di un'altura donde si ammirava il grandioso spettacolo di Napoli e del suo golfo, nella limpida chiarità mattutina. 28 febbraio Napoli è un paradiso. Ciascuno vive in una specie di ebrezza e di oblio di sé stesso, e non è possibile descrivere la magnificenza di un plenilunio come quello che abbiamo goduto per le piazze e per le vie verso Chiaia, la meravigliosa passeggiata in riva al mare. Primo marzo 1787. Ieri il principe di Valdec, che dimora a Napoli da lungo tempo, ci propose di fare con lui una corsa a Pozzuoli e dintorni. Io pensavo di andare a Vesuvio, ma Emma ha preferito quest'altra gita che si annunzia a Mena e che promette di essere molto allegra ed utile, in compagnia di un principe così erudito. Finalmente verso i campi flegrei. Purtroppo non senza il noiosissimo Valdec, ma nulla può guastarmi la gioia della gita né mettermi di mano umore. Chi desidera osservare la riviera bellissima che si stende da Posillipo a Cuma deve ascendere il primo giorno sul monte dei Camaldoli, il quale, coronato da un boschetto di castagni e dal campanile della chiesa, si eleva al di sopra di tutti i colli dei campi flegrei. Quando raggiungiamo il bel vedere del convento dei frati camaldolesi, il sole sta spuntando alle spalle del Vesuvio. Ma la veduta larghissima, che ci si apre dinnanzi, nella luce radente e rosata dell'alba, contrasta mirabilmente con la solitudine e la malinconia del fabbricato. Sotto di noi, in direzione del monte Epomeo di Ischia, il bacino di Agnano, il vulcano degli Astroni e la penisola di Baia. Miglior punto non va dunque nei dintorni per godere con uno sguardo tutto il golfo, dalla punta della campanella al capo miseno ed oltre, verso il promontorio del Circeo, tenue separazione azzurrina all'orizzonte fra cielo e mare.